Nel corso dei prossimi giorni il contesto climatico dell'Italia assumerà caratteristiche tipiche di inizio autunno. Il sensibile abbassamento delle temperature che è interessato in queste ore il centro-nord sarà seguito da un lieve rialzo termico con massime che saranno quindi in linea. Con le medie di questo periodo al nord i valori oscilleranno tra 20 e 24 gradi tra 20 e 25 al centro al sud avvertiremo un brusco calo proprio nel corso delle prossime ore dopo la fase addirittura tardo-estiva che ha interessato il meridione negli ultimi giorni le massime non andranno al di sopra dei 21-25 gradi per il sud quindi colonina di mercurio che evidenzierà massime anche inferiori alle medie di questo periodo. Diamo uno sguardo anche alle temperature minime che saranno molto fresche nottetempo al primo mattino addirittura tra 7 e 11 gradi in Valpadana tra 8 e 12 al centro punte fino a 14-20 gradi al sud e anche il meridione. I valori saranno decisamente più freschi rispetto ai giorni scorsi. Con questo è tutto per aggiornamenti dettagliati scaricate la nuova app di Trebi Meteo.